Occhio al tiro! A sui piedi il pallone del vantaggio! Il pallone del vantaggio! Sopra la linea! Autogolle! Possibilità per l'Uruguay! Ci mette il fisico! Prova! Una grande parata su Suarez! Suarez! Baragna metri! Alza Labi! Suarez! Suarez! Ecco Vessino! Trova! Occhio al suo movimento! Erickson Cavani! Occhio a Suarez qui! Meta del nostro viaggio per la sfida di oggi è la città di Kazan con la sua arena da quattro... E c'è il tiro di Diego Costa! Si fa vedere Iniesta! Attenzione Iniesta! Si immola il difensore! Palla vacante adesso! Occhio al tiro! Portiere che si allunga e sventa la minaccia! Azione dopo azione si stanno confermando... Saúl! Occhio al tiro!